Come nelle previsioni si andrà al balottaggio a Silvi, unico comune abruzzese dopo Teramo con più di 15.000 residenti. A contendersi la carica di sindaco saranno Francesco Comignani con al suo fianco le liste Democratici per Silvi, Silvi Ripartiamo e Obiettivo Silvi che ha ottenuto il 35,56% e Andrea Scordella con il 33,33% che ha invece l'appoggio di quattro liste di centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Idea. Restano fuori dalla corsa sindaco l'esponente del Movimento 5 Stelle Simona Stolfi con il 24,21% e Antonio Del Vecchio con le liste Silvi in comune e Giovani in comune con il 6,88%. Come previsto andremo al balottaggio, non eravamo sicuri con chi facevamo il balottaggio, da questa notte certo andremo con il centrodestra. Permettetemi di ringraziare innanzitutto tutti quei cittadini che ci hanno riconfermata la grande fiducia e quindi un ringraziamento a tutti i consiglieri della mia lista e anche un grande complimenti sia ad Andrea Scordella per il centrodestra che ai 5 Stelle che hanno ottenuto un grosso risultato e anche a Tony Del Vecchio che ha avuto il coraggio di fare anche una lista di giochi. Dobbiamo essere bravi soprattutto a cercare di portare la gente a votare perché il dato eclatante è stato che rispetto alle votazioni di quattro anni fa che si sono venuti a votare 1.250 persone in meno quindi bisogna cercare di recuperare i delusi che non sono venuti neanche a votare. Stiamo capendo cosa fare e come muoverci, il dialogo sicuramente con tutti anche se siamo convinti che la forza della coalizione ha dimostrato che ci siamo una coalizione a trazione lega, un grande risultato del mio partito e speriamo di portare avanti l'obiettivo che è quello di vincere al ballottaggio. A freddo soddisfatto del risultato ottenuto? Sicuramente soddisfatti, l'appello che possiamo fare è quello di aver intrapreso la strada del cambiamento e vorremmo continuare su quella via dunque chiederemo proprio agli elettori di continuare sul cambiamento.